Una serata d'onore per una Garlaschese speciale. I Lions Club del territorio, in collaborazione con il Comune, hanno organizzato un evento al Teatro Martinetti per celebrare Simona Guala. La giovane Garlaschese è focomelica, non ha né le braccia né le gambe, ma questo non le ha impedito di realizzarsi nella vita, sia nello studio che nello sport e nel volontariato. La sua città ha quindi voluto festeggiarla, organizzando una serata in cui saranno anche raccolti i fondi per l'associazione La Chiocciola. I nostri Lions Club Garlasco Ost Le Bozzole e Garlasco La Torre e Lomellina Riva del Po hanno pensato di onorare con una serata al Teatro Martinetti di Garlasco il 28 di gennaio del 2020 alle ore 21 una cittadina di Garlasco che si chiama Simona Guala e che è nata con una grave menomazione fisica. Nonostante questo la ragazza è riuscita a farsi ampiamente strada nella vita, si è laureata in legge, pratica sport in palestra, in piscina, nuota, guida la macchina, si dedica all'aiuto dei più sfortunati e dei più bisognosi, insegnando loro e facendo la catechista. L'appuntamento è per martedì 28 gennaio, la festa in onore di Simona Guala inizierà alle ore 21. La serata sarà moderata da un giornalista che si chiama Roberto Rasia Dal Polo che si è prestato molto gentilmente a intervistare Simona.